la storia del vaso di pandora è arrivata ai nostri giorni dopo che fu sottratto dal tempio la struttura sopravvisse crono il titano visse per mille anni ancora errando nel deserto fu molto tempo fa il tempio ora è silenzioso e la bestia che lo sostenne per tanto tempo è morta ricordo di un'epoca passata ma non tutti i miti appartengono ai tempi antichi oggi un gruppo di esploratori farà il suo ingresso nella struttura rinvenuta e scoprirà a sue spese che il tempio possiede ancora molti pericoli e molti segreti presto come in tutti i grandi miti nascerà un nuovo eroe grazie a tutti grazie a tutti